Si chiamano Meredith, Derek e Owen. Sono tre degli ultimi arrivi qui al Gattile Sanitario di Pesaro, zona Pontevalle di Santa Veneranda. Tre gatti abbandonati davanti alla porta della struttura in un trasportino per un fenomeno, quello degli abbandoni particolarmente grave, soprattutto in questo periodo di nascita di cuccioli, quello primavera-estate, che qui al Gattile, a fronte di una popolazione già superiore ai 100 felini, ha visto 30 arrivi concentrati in pochi mesi. In questa stagione primavera-estate di cuccioli, sì, sono entrati più di 35 gatti, la maggior parte da allattare, fra parentesi, per cui con un impegno bello pesante, perché allattare dei cuccioli vuol dire, quando ti arrivano poi soprattutto piccoli piccoli, vuol dire che ogni due, tre, quattro ore li devi allattare, per cui giorno e notte. Chiaramente i cuccioli da allattare noi non li teniamo qua in Gattile, per ovvi motivi, visto che ci sono queste frequenze di allattamento, per cui ci riportiamo a casa noi volontari e provvediamo all'allattamento, allo svezzamento, li portiamo fino ai due mesi, quando è ora di fare il primo vaccino e l'applicazione del microchip, e poi sono adottabili, prenotabili, eccetera, eccetera, eccetera. Da noi gatti entrano tramite l'AST, per cui gatti randagi, nel caso dei cuccioli, cuccioli trovati in giro, non autosufficienti, per cui hanno bisogno di essere sfamati. Normalmente ci entrano tramite l'ASUR, però ci capitano degli episodi di abbandono, tipo questi tre gattini che vedete qua dietro di me, che sono stati lasciati fuori dal Gattile in un trasportino, o tipo i gattini che ci sono arrivati la scorsa settimana con degli occhi disastrati, che sono stati mollati in uno scatolone sotto il sole. Noi ci teniamo a dire che anche se non possiamo prenderli, i gatti, la gente si può rivolgere a noi, chiedendo magari una mano, perché comunque se ci sono dei gattini bisognosi, hanno alle spalle una mamma che ha bisogno di essere sterilizzata, perché altrimenti fra un mese e due mesi si ripropone lo stesso problema per queste persone. La gatta è incinta, partorisce di nuovo, per cui noi sono anni che lottiamo per la sterilizzazione, perché la sterilizzazione è l'unico sistema per arginare il randagismo felino, anche perché poi questi gatti, quelli che arrivano qua, sono la punta dell'iceberg, sono quelli che vengono trovati, i gattini. Quelli che non vengono trovati muoiono malamente in giro, sotto il sole, mangiati dalle mosche, in condizioni pietose, si ammalano, per cui sarebbe importante partire a monte dalla sterilizzazione. Poi per il resto, ripeto, noi, anche se non si possono prendere chiaramente gatti al di fuori di quelli mandati da AST, cerchiamo di dare una mano. La speranza principale per questi felini è sempre quella dell'adozione, che però nel periodo estivo registra forse il periodo peggiore, perché aumentano anche questo tipo di entrate e diminuiscono le uscite. Esatto, esattamente. Diciamo che ormai già da un paio di settimane i possibili adottanti sono notevolmente diminuiti, perché quando comincia il caldo vuoi che la gente va in vacanza, che va giustamente al mare, per cui diciamo che le adozioni si fermano un attimo, per, di solito è così il trend, poi vediamo, salvo poi dopo il 15 di agosto, dopo il ferro agosto, allora lì ricominciano.